Mourinho. Roma dopo il sofferto successo sul Verona, che ha riportato la Roma al terzo posto in classifica a pari merito con il Milan. Iosè Mourinho esalta lo spirito delle seconde linee giallorosse, protagoniste del successo sugli scaligeri firmato da Solbakken, alla fine ho riunito la squadra in gruppo per fare i complimenti ai ragazzi. Oggi hanno mostrato un grande spirito e una grande predisposizione al sacrificio. Questa vittoria è tutta loro. Mi dispiace solo che la gente non gli renda merito di tutto quello che i ragazzi stanno facendo. Mourinho parla ai tifosi, ci sono sold out e sold out Mourinho poi si rivolge direttamente ai tifosi, siamo a 23 sold out consecutivi. Ma esistono sold out e sold out. Ci sono sold out che vincono da soli la partita e altri che invece mettono in difficoltà i giocatori. Cono clima che non è quello giusto. I ragazzi ce la mettono tutta e anche se voi giornalisti non aiutate. La gente deve capire che non si può rumoreggiare ad ogni errore, prendete bobe. E più romanista di tanti di quelli che sono allo stadio, ha fatto una grande partita insieme a Cristante e ha sbagliato un pallone all'80 e il pubblico l'ho criticato. Questo non mi piace e non è giusto. Ma io faccio l'allenatore e non posso giudicare lo stadio. Mi scuso per questo, ma devo difendere la mia squadra. Futuro rinviato a fine stagione, avrò tanto da dire quanto al futuro. Mourinho rinvia il tutto a fine stagione, avrò tanto da dire. In un anno e mezzo non ho mai rilasciato un'intervista. Parlo solo dopo le partite e nelle conferenze perché sono costretto a farlo. Forse sbaglio ma è così. aspettiamo a fine stagione per parlare. Virgola.